Benvenuti in questo nuovissimo video di Brawl Stars, come vedete si è aggiornato il gioco e io non ho ancora potuto soppare il Brawl Stars intanto noi andiamo più avanti possibile così almeno se usiamo queste gemme se andiamo avanti molto con le soglie noi possiamo dai spenditi ai gemmi non lo Sarc poi dobbiamo arrivare a lasciate mi piace si lasciate quindi ci hai comunque ho visto quel video dove ho detto vi adoro quelle cose belle avete lasciato 15 like 15 amici come vi avevo detto io in persona sono davvero ma davvero contentissimo quindi continuiamo a lasciare 15 like in tutti i video quindi si in tutti i video 30 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 31 33 32 32 33 32 34 34 35 34 36 37 no questo dice meno trofei non sai leggere devi mettere la porta comunque togliamo questo schifoso lecce e mettiamo cazzo io sostituisco sempre a cazzo no no con 10 euro e 99 si può slocare pure a sandy ma non ce ne frega no no sarà di choppy sandy o il brawl pass un leggendario e un cromatico dai ti prego non sarai poi non sarai neanche la mia vai in partita per cavolo dai veloce 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 devo andare al scavo di miniera si miniera che vuoi trovare diamanti si faccio un bel piccone ma se muoio io ti scopro perché quando rinasco rinasco la testa è vero un punto di non vedo non vedo non vedo non vedo non vedo non vedo ma hai due cutie mi ho ucciso una maledetta pyper va bene ci è un bel giglio non vedo non vedo non vedo lo rigenerati po' dentro non vedo non vedo non vedo non vedo non vedo potrebbe mancarci attenta no maledetta super di piper voi ragazzi anche iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e nulla è il tuo brawler preferito in questa macchina non è morto no laggia 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 si si muori fai bene muori anche tu se vinciamo noi guarda ma l'ho spedito come ho vinto come ho fatto andiamo nella prossima soia io sono la soia 1 io sono anche quasi alla soia 2 cassa bro cassa bro cassa bro niente dai dobbiamo arrivare qui che cosa? ma tu hai il punto energia passiamo a te lo scelgo io è legato grazie eh te lo puoi buona oh mi sbloccava già? eh si chiude sbloccherai sanno dai voglio sbloccare bello forse questo sarà l'unico passo se non ci sbloccheremo non ci sbloccheremo domani è il momento su cui visto che sarax ha il mio profilo pure lei abbiamo ah abbiamo fatto sto fatto che lei entrava nel mio profilo ovvero l'ora 87 e poi guardate un poco questo è il mio secondo profilo l'ora si chiama il supercelli di qua 87 invece c'è il mio profilo e soltanto il salto c'è il tuo si poi c'è il mio eeeh quindi abbiamo fatto questo fatto ora mi voglio fare le figuri le figuri io cerco sarà dai carino la figura del foglio bella faccia no che ti metterai arancione c'è rosso no questa è brutta no ma pure tutta no ma io ho già questa figura allora mortis col viola è il primo col blu si io sull'ore vediamo come io l'ore ce l'ho morto io col viola ok lo dio o cosi? col blu col blu ok io col viola io sono quasi alla 2 io sono quasi alla 2 se non c'è una cosa ok quasi quasi mi prenderei adesso mi prenderei con le leggende però mi voglio soltanto dai mi sono messo l'ora sono felicissima sono felicissima sono felicissima ok devo abbassare l'audio di gioco ok allora lo dragon attenzione allo dragon con una shell ignorante schifo ai 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 bravo edgar ho 244 di vita mi è pochissima ma ti one shot anche shelly da lontano in due colpi ok ok c'è incapito in due colpi l'ore x l'ore x me ca attento attento stivale delle tecca dei miei stivali muori no no pure voi no ti prego aiuto attento c'è ancora la barriera hai tu colto Sara non me ne frega ti hanno ucciso qua ti hanno ucciso qua ti hanno ucciso col gelinto venditami no così lo dragon lo dragon lo dragon lo dragon sono qui ma un edgar l'avevo ucciso va bene io ho preso un'altra soia 140 ah no io ho preso altre due soie 10 gemme 55 20 un attimo ho preso una cassa enorme cammina cammina da un'erba all'altra da un'erba all'altra da un'erba all'altra da un'erba all'altra passi tra erba ed erbe mi muore 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 perché di questo stupido cosissimi ho leone invisibile dietro di me ma come leone invisibile ma che muore vuoi far sarlo il salto il lorsetto vabbè cavolata lorsetto attento attento hai mille di vita no 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 18 mila no no succedo muori 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 si bravo va bene allora uso la super con l'abilità star power l'abilità stellare che in pratica mi con la star power che mi rigenero ogni mille di vita col con la super tu? ma davvero? beh eri morto oh ho finito un'altra missione che bello altre due oh no di dieci arrivo ancora un'altra soia io mi faccio le missioni sconfiggi venti quattro nemici con barrel così arrivo 22 gemme con cosa ci fai sarax io metto berr 4 biu mi devi aiutare a prendere due gemme di così meglio di più di così io ne ho 55 per ora domani sono i giardini per prendermi per un passo nuovo passo nel nostro profilo e domani partirà la schiavete ne ho pa ho visto ne ho pa non ne può ne ho pa io invece ho visto ne ho pa e basta c'ho ne ho pa qua non ne può no che c'è? no no che c'è? allora che mi volevi dire che dobbiamo un cellicot? mi sto dita cammini scappiamo scappo c'è ancora la super stai tranquillo c'è ancora la multi la super la super passaglia ne può non ne può che è ne può esiste solo ne può ne può il famoso che è una bierda vabbè abbiamo vinto, no io devo usare barilla, indovina perché ho una missione da 500 e posso andare avanti di un po' di soglie, di molte più soglie, oh ma per un brawler probabilità metti pronto, ma sono impremibili, dai metti pronto, se tipo non puoi, aspetta le gemme, ah le gemme ci sono, dai metti pronto, ok vado a vedere le probabilità per il brawler, sì ma vabbè posso sbloccare i gadget, proprio i leggendari non sono d'accordo, mi dici e poi subito si ricarica il coso che è una cosa? che cosa? una cosa molto bella, io adoro non la so, me la devi dire se ti uccide il bombardino sarà però, sarà quinto posto no quinto posto gioca ancora anche io gioca ancora anche dopo c'è però stu è uscito da pochissimo tempo ma ci sono già un po' di soglie i miei amici, perciò eh, francesco gli ha tutti chi è francesco? francesco quello di classe 2 sì, gli ha tutti di brawler? sì tutti brawler? sì quanti trofei? tutti a gioca a brawler? eh sì non ti credo sì e diglielo ma io non so ma che faccia? vabbè non ti credo dai dai finalmente c'è la foglia 3 devo andare alla foglia 6 per poco stai per sbloccare un brawler bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto allora ex me che è tutto noi ci vediamo dopo in un prossimo video ciao ciao